Alla mia città, è in questa guerra che stiamo combattendo e non abbiamo mai dichiarato che ti scrivo. Sei fatta di sassi, di legni spezzati, di anime che vagano tra i vicoli in cerca di pace. La natura. La natura ha punito. La natura a volte è magra, a volte è matrigna. In queste ancora fredde nottate, a ridosso della primavera che si avverte nell'aria, con i selciati che si colorano di verde, prima rossi, ora erbosi. Una riconquista all'opera dell'uomo. Tra il vociare di un tempo e il silenzio di ora, c'è l'abbaiare al vento di un cane che ti avverte, ti avverte come luogo di vita. Roma accoglie l'Aquila nel concerto istituzionale. dell'anno per il quinto anniversario delle vittime del terremoto, con la partecipazione straordinaria di Simona Molinari e l'orchestra sinfonica Marco D'Aquila. Un concerto che sia una preghiera per chi ci ha lasciato e un augurio per noi che siamo ancora qui, perché la nostra città torni a volare. Noi vi aspettiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.